Benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti voi Cari amici, benvenuti a tutti voi Vi ricordo che è in vendita il mio ultimo libro Fuggire per rinascere Come acquistarlo? Facile, la via principale è farlo tramite il sito che mi ha permesso di pubblicarlo You Can Print Andate sul sito You Can Print Sulla barra di ricerca andate a scrivere Fuggire per rinascere E automaticamente vi porta lì per l'acquisto Oppure in alternativa lo trovate sulle principali librerie Feltrinelli, Mondatori Oppure il 90% delle librerie d'Italia distribuisce il mio libro Andate lì, lo ordinate e nel giro di 4-5 giorni vi arriva In alternativa, per essere messi a conoscenza proprio nel dettaglio Di tutti i canali di distribuzione del mio libro Andate su Google, digitate Fuggire per rinascere di Manu e Manconi E vi esce tutta una sfilza di modalità di acquisto del mio libro Io ringrazio anticipatamente chi mi dà fiducia e chi decide di acquistarlo Ma la cosa che più mi sta a cuore è quella di mandarmi poi una vostra recensione Perché come sapete ci tengo moltissimo Ciao Ecco, c'è l'errore, mannaccia, la miseria, sbaglia il controllo Cambiaso diventa un modo per smarcarsi Attenzione Chiesa E Kostic Chiesa, area di vigore della Lazio 1-1 contro Philippe Anderson Chiesa Mano, mano, arbitro Fischia, mano, arbitro Cambiaso fuori ma Sicuramente gioco fermo Che non ha fischiato niente, era buono? Era buono perché hai imbalzato Ma che è davvero? Sì, sì, sì Perché hai imbalzato per te, era giusto Porca miseria, ragazzi Questa è un'azione da gol, eh? Azione da gol, sì Spira Attenzione, angolo Lazio Luisa stavolta batte La palla gira a centro, area No, 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 no Go, no, no, no Go, no, no Sì Indovinate un po' chi ha segnato di testa Sotto l'incrocio dei mali E ci volevo Indovinate un po' chi ha segnato Il Tati Casteggianos, ragazzi Gol meraviglioso La palla è andata lenta, lenta sotto l'incrocio Farino fuori È arrivato l'episodio, ragazzi La Lazio in vantaggio al dodicesimo minuto Adesso è tutta un'altra partita Dai, dai Ragazzi, gol meraviglioso di testa, eh Guarda un po', fa un po' vedere Gol meraviglioso, ragazzi Gol meraviglioso Guarda che bello Mamma mia Fantastico, fantastico Fa un po' rivedere No, ragazzi Un gol bellissimo È difficile Come stanno suonando? Sì Eh, mamma mia Juvecazione meravigliosa Oh, no, raga Miracolo di Mandas, ragazzi Miracolo di Mandas Ballone via La parata con i piedi, ragazzi La Juventus ha fatto un'azione sensazionale Tutto di prima veloce, ragazzi Scambio, scucchiaiata di Rabiot per Chiesa Palla a centro aria Pronto Che parata di Mandas Questa da dietro rende di più Poi Mandas Bravo Palla per Luis Viene a dare la mano Cataldi Ecco Ortati Bravissimo Il Tati che apparecchia per Gendosi La Lazio parte C'è Campo, c'è Campo, c'è Campo Gendosi, attenzione Felipe Felipe, no Felipe Murato Uno contro uno Murato dall'unico difensore E c'ava davanti Guarda la Lazio come aggredisce Bravissimi, ragazzi Ottimo Bravi Batte Kostic Quindi sarà una palla a uscire Eccola, attenzione Porca miseria Bremer Sicuro che sono 35 di una persona Io però continuo a bocciarsi i lanci lunghi Allora, prima perché non li facevamo Mo li bocci Prima non la buttavamo mai giù E te lamentavi con Sarri Ma Giacomi, ogni tanto ce vuole Io mi riportavo Sì, i palleggi da dietro Non li volevi mai Ma che c'è Allora, ma quindi la differenza Tra il palleggio da dietro E il palleggio è l'alcio lungo Viene al portiere Certo Certo Se non c'è la linea di passaggio, sì Oh, Felipe, Felipe, Felipe 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 Murato Porca mignotta Era ottimo Che peccato Regato, un Tato è rossato a Juve Oh, guarda questi cazzione Guarda questi cazzione Fallo, hai fatto bene Bravo Gadaldi Pure Gadaldi No Ammonito Sì, sì, sì Lucatelli Giusto, giusto, giusto Bella palla Queste sono le palle buone Queste sono le uscite buone Attenzione Lazio che buca la linea della Juve Luis Alberto Sbaglia l'appoggio Però sbagliano pure loro Luis Luis Alberto Luis Alberto Luis Alberto Rientra sul destra Ecco il Tati che attacca lo spazio Oh, oddio il Tati No No, non ce credo No No, ragazzi No 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 Ragazzi No No Patrick Zitto, zitto un po' E il Tati Il Tati Peccato Ho fatto bene Attenzione Perché è un momento di grande confusione Metti a terra Kendose Sì Bella palla per Cataldi Felipe Cataldi Felipe 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 Grande palla per Luis No Luis Il Tati Il Tati Sì Sì Tati 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 Sono due Con la doppia C'è il rischio C'è il rischio Voglio vedere perché Ragazzi Un'azione confusionaria Poi nasce tutto da Cataldi Che aziona sulla destra Chi? Io adesso è fuori gioco o no Attenzione Il guardalini era sicuro o no Ha tenuto le mani abbassate Vediamo un attimo Luis Alberto L'ha presa pure male La palla gli ha dato Attenzione Aspetta Non è qui Non è qui No Regolarissimo Dai Regolarissimo Ma è un grande gol Io non so D'accordo No Regolarissimo Il primo tocco E' pericoloso Per me regolarissimo Ascolta Il primo tocco Per me regolarissimo Io ti dico Che ancora non so C'è Bravo Tocchetto a destra In crocia a sinistra Regà Un gol Meraviglioso Del Tati Non è certa Sta cosa Attenzione Ma è regolare Sì Vediamo un attimo Dai Jack Dai Jack Dai Il Tati Verso la curva No Mi sa che non è Versa la curva Sarà la moglie Chi ci è sposato Nemmeno lo so Attenzione Ragazzi L'arbitro Prende la palla Gole regolare Gole regolare 2 a 0 Ragazzi La gara in equilibrio Abbiamo un tempo Per giocarcela Alla faccia Alla faccia De tutti i pessimisti De tutti i pessimisti A piagna da una settimana Brava Lazio Ragazzi Non ci credo Brava Lazio E adesso Ce la giochiamo Ragazzi Siamo tornati Proprietemente Corsa C'è Ah Siamo No 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 Oh Mandas Perché non è uscito Mandas Salvataggio Sulla linea della Lazio Ma perché non è uscito Mandas Una cosa inguardabile Ma l'eser che ha fatto Marusic Ho capito Ma Mandas Che non è uscito A chiudere la valanga Juve pericolosa Mamma mia Ragazzi Se soffre Ragazzi Attenzione Attenzione Blauic A rete rigore Blauic Fuori del soffio Ragazzi Non va bene Campana Ragazzi Juve pericolosissima Marusic E niente Juve la ripresa Ragazzi Momento di sofferenza Poi c'è il break Della Lazio Felipe Anders Fuori gioco Prova vai Castellanos Castellanos Cucchiaio Parata de Perin Fuori gioco Era fuori gioco Meno male Meno male Che l'avevo vista Il fuori gioco Da subito Mamma mia Oh Ertati Ruba palla Ma quale fallo Gendosi Ma perché fallo Giacomini Quelli non so falli Gendosi Palla per Marusic Marusic Bravo No perché lui si tiri a giro In distanza La zecca Va bene Va bene Parata facile De Perin Palla per Gendosi Io Gendosi Non le avrei mai Gendosi Gendosi Oddio Oddio Luis Alberto Parata di Perin Parata di Perin Tiro centrale Che peccato ragazzi Ah pure Milic è entrato Annaggia la miseria No hanno bucato tutti Ue Gol della Juve Gol della Juve Voglio vedere solo sul fuori gioco qualche speranza Però ragazzi Proprio L'unico buco difensivo Qua sulla sinistra E' buono Ragazzi Amoretto troppo C'ho qualche Vorrei vedere un attimo Ma Amoretto Va bene La Lazio Stava tirato i remi in barca Era stanchissima ragazzi Va bene Va bene Ci abbiamo almeno provato La pende Patrick Palla lunga Immobile Prova a sgomitare Madonna Ciro Però Ciro Non è possibile Neppure sul corpo a corpo Voli 10 metri C'è Non è possibile Oh Ragazzi A me dispiace Ha finito di giocare Pallone Immobile Ragazzi Sta cercando uno sbocco Per affondare Ma non c'è modo Raga Juve Perfetta Nelle chiusure Recupero ampiamente scaduto Comunque Applausi a sta Lazio Ragazzi Non mi sento che De rimproverare nulla La Lazio che ha dato Tutto quello che aveva E finisce In questo preciso Istante Con la Juventus Che Grazie al gol di Milik Si porta sul 3 a 2 Complessivo E se ne va La Lazio ha giocato Se ne va In finale Ragazzi Non si può rimproverare nulla Sta Lazio No 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 Finalmente Ottima prestazione Io mi rendo conto Che brucia Però è una partita Che la Lazio Si è giocata Bene Bene